Fatturazione elettronica ad Aruba mantiene tutte le caratteristiche del tuo attuale servizio ma ti offre un'esperienza di navigazione migliore, la possibilità di inviare fatture anche a soggetti privati e tante nuove funzionalità. La home page del servizio diventerà il tuo centro di controllo, da qui infatti potrai visualizzare lo stato delle fatture inviate, le notifiche ricevute dal sistema di interscambio, date, scadenze e ricorrenze importanti che potrai impostare con l'invio di avvisi email per non perderti neanche un appuntamento, lo stato del tuo servizio e le news provenienti dal mondo della fatturazione elettronica per rimanere sempre aggiornato. La barra laterale ti consentirà di navigare facilmente tutte le sezioni del nuovo pannello, anagrafiche, configurazioni e tanto altro. Tutte le tue fatture che hai già inviato verranno automaticamente inserite nell'apposita sezione fatture inviate per visualizzare rapidamente tutti i dettagli e monitorare il loro stato. Se invece lo desideri potrai salvare le tue fatture nella sezione bozze in modo da modificarle e inviarle in un momento successivo. Con fatturazione elettronica di Aruba potrai scegliere tra due modalità di creazione fattura, smart e guidata. Con la creazione smart avrai tutti i dati che ti occorrono all'interno di un'unica pagina e potrai verificare la produzione del tuo documento via via che inserirai dettagli all'interno delle varie sezioni. Basta aggiungere il cliente, i prodotti o servizi, le modalità di pagamento, la banca ed eventuali altri dati di pagamento. Durante la compilazione, in base alle opzioni attivate e alle informazioni inserite in fattura, il calcolatore automatico riepilogherà in tempo reale tutti i calcoli e potrai disattivarlo in qualunque momento per consentirti di modificare manualmente i calcoli. Se invece preferisci inviare i documenti in tutta tranquillità, con una procedura che ti accompagnerà passo per passo, puoi utilizzare la creazione guidata. In questo caso tutti i passaggi della creazione sono suddivisi all'interno di pagine specifiche riepilogate nella barra di navigazione in alto. Un simbolo di spunta ti indicherà il completamento di ciascun passaggio. Grazie alla presenza dell'anteprima potrai verificare come sarà la tua fattura, verificare i dati inseriti e i calcoli, modificare, salvare e inviare. La gestione di più sezionali per le tue fatture non sarà più un problema con la fatturazione elettronica di Aruba. Dalla voce impostazione infatti potrai configurare e salvare tutti i sezionali di cui hai bisogno. La creazione di un nuovo sezionale è completamente personalizzata, basterà selezionare le caratteristiche necessarie e quindi comporre il sezionale come desideri. Il sistema ti proporrà un esempio di come verrà numerata la tua fattura. Che cosa aspetti a passare a fatturazione elettronica di Aruba? Più ricca, intuitiva, più efficace e senza nessuna variazione di prezzo. Grazie a tutti.